Per noi oggi è un giorno importante perché abbiamo firmato la convenzione con CONFAR che rappresenta per noi un'ottima opportunità di crescita e spero che possa essere altrettanto anche per CONFAR, anzi ne sono sicuro. Sono convinto che questa convenzione ci permetterà di offrire un servizio di qualità alle imprese associate a CONFAR.